buonasera milano e buonasera cari milanisti non vi sto prendendo in giro con la maglia dell'inter gli occhiali rosa li ho avuti in prestito perché qua c'è tanto sole e altrimenti sarebbe stato un po difficile fare il video parliamo della partita milan benevento una partita sulla carta scontata è semplice ma tutt'altro perché il benevento deve vincere per forza per tentare di rimanere in serie a e il milan deve vincere per forza perché credo che questa sia la partita più sulla carta sempre più semplice delle delle prossime da qui alla fine per il milan perché non so tanto per fare un esempio la prossima sarà con la juventus a torino quindi credo che quella sarà un po più difficile allora il milan la porta a casa crea un sacco di occasioni però diciamo che va in vantaggio subito e poi accetta accetta una partita dove si fa chi fa gol prima perché io ho visto una partita veramente divertente e divertente capovolgimenti di fronte continui e poteva tranquillamente pareggiare il benevento solo che la padula ha dimostrato quanto non sia il caso di rimpiangerlo parlo per i tifosi del milan perché ricorderete che la padula ha giocato nel milan però anche il milan ha rischiato forse anche più del benevento di fare il 2 a 0 che poi alla fine è arrivato osservazioni sulla partita un appunto un piccolo inciso su Ibraimovic allora Ibraimovic alla fine è stato anche determinante perché il raddoppio di Teo Hernandez è arrivato su un'azione appunto di Ibraimovic sul filo del fuorigioco che ha calciato in porta poi sulla respinta è arrivato Teo Hernandez a fare il 2 a 0 e a chiudere una partita che insomma fino a quel momento aveva dato qualche preoccupazione ai milanisti però Ibraimovic non può comportarsi in quel modo perché insomma ha mandato al diavolo Cialanoglu diverse volte ha chiamato il pressing in maniera anche giusta parlando sempre in inglese col turco mi ricordo adesso poi si sente tutto mi ricordo una volta gli ha detto on the right on the right perché voleva che lui pressasse la costruzione del benevento sulla destra un'altra volta gli ha detto I don't fucking understand you questo non lo traduco però in malo modo gli ha detto non ti capisco per chi non non masticasse l'inglese secondo me Ibraimovic dovrebbe comportarsi in un'altra maniera non si spronano in quel modo i compagni lui dovrebbe saperlo perché ha 40 anni e niente quindi sta di fatto che lui non segna da parecchio è anche vero che ha saltato diverse partite però vabbè non mi dilungo ancora su Ibraimovic il Milan doveva vincere questa partita l'ha vinta secondo me meritando adesso vedremo che cosa farà nelle prossime partite in questo momento il Milan è secondo in classifica non sarà facile comunque arrivare nelle prime quattro nonostante il Milan sia secondo in questo momento la Lazio sta vincendo 3 a 1 non è una buona notizia neppure questa per il Milan niente come domanda finale sapete faccio sempre la domanda finale questo vi chiedo secondo voi il Milan ce la farà a entrare in zona Champions rispondetemi adesso dopo aver visto quello che abbiamo visto e dopo che sappiamo che la Lazio probabilmente vincerà questa partita un saluto a tutti alla prossima ciao ragazzi